Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo vlog stratosferico, guardate un po' dove mi trovo, ovvero per chi non riconoscesse questo luogo, questo qui è il mio lago dietro casa mia. Guardate un po', piccola panoramica ragazzi, questo qui è tutto il lago ghiacciato, è veramente una cosa strepitosa, anche se negli ultimi giorni ha fatto un po' troppo caldo e quindi qua non si può più andare sui pattini, perché se no qui ragazzi io di solito anche da ragazzino venivo qua e giocavo a hockey sui pattini eccetera eccetera eccetera, però questo qui non è importante, ma l'importante ragazzi è il luogo, perché ogni volta che faccio un vlog qui vuol dire che è veramente speciale e quindi iniziamo subito perché devo farvi innanzitutto i miei più sentiti ringraziamenti per questi 800.000 iscritti, veramente una cosa stratosferica e soprattutto ragazzi quest'anno soglia di un milione, ci arriveremo assolutamente, ma ragazzi oggi vi devo far vedere cosa c'è dentro qua, perché qua dentro c'è una cosa che nessuno di voi potrà mai immaginare, quindi vi faccio sedere qua, molto belli calmi, cauti ragazzi, state calmi, forse riconoscerete tutto quanto il logo, l'insegna, ma guardate un po' qua dentro cosa c'è ragazzi, guardate qua, mamma mia ragazzi, cosa è questo casco qui, è una cosa strepitosa, questo qui è il nuovo casco di Bistard per il 2017 e per i suoi moto vlog, adesso ve lo faccio vedere in tutta la sua maestosità, vi dico subito che è chiaramente un casco dell'Airo, modello Aviator 2.2, full carbonio, con il carbonio a vista ragazzi, e qua sotto si vede ancora meglio perché diciamo non è stato trattato come la calotta e quindi si sente proprio tutto quanto bene il carbonio in mano ed è strepitoso, è il modello di replica di Tonic Airoli Mantua e questo casco qui ragazzi è unico al mondo, volete sapere perché c'è soltanto questo modello al mondo ragazzi? Perché ce l'ho soltanto io, è stato fatto in edizione super ultra limitata, difatti se andate sul sito dell'Airo, trovate sì questo qui simile a quello di Tonic Airoli, però chiaramente si differenziano per alcune piccole particolarità, in pratica questo qui ragazzi non è in commercio, tutti quanti voi sapete il mio desiderio sfrenato di possedere un Aviator e principalmente quello della Rockstar, però quando mi si è posta l'opzione questo o quello della Rockstar ho dovuto assolutamente scegliere questo qua in edizione super ultra mega limitata, così ce l'ho soltanto io e adesso vi faccio vedere anche i particolari di questo casco, pesa meno di un chilo e rispetto a quello tra virgolette standard che tutti quanti voi potete comprare di Tonic Airoli abbiamo il suo numero 222 che si ferma soltanto qua, invece quello che tutti gli altri possono comprare continua qua sotto qui poi ci sono delle altre grafiche giallo fluo che io non ho, in più questi qui per l'ariazione dovrebbero essere anche questi qui giallo fluo e altre piccole cose mi pare, però questo qui ragazzi è una cosa strepitosa non so se dietro ci metterò il mio simbolo del canale perché tanto là dietro va la maschera quindi si copre in una maniera incredibile però guardate anche dentro com'è, cioè guardate tutto quanto fatto in questa maniera cioè ragazzi questo qui è veramente un sogno che diventa realtà poi tutta quanta qui davanti la retina cioè tutti quanti voi sapete ragazzi che io ho sempre avuto caschi Airo o meglio voi avete visto il casco dell'Airo nero e arancione che utilizzavo sul mio KTM e secondo me questi caschi ragazzi sono i migliori al mondo e non lo dico soltanto perché ho ricevuto questo qui ma perché ragazzi gli altri caschi li ho sempre comprati io quindi un motivo ci sarà poi chiaramente ognuno avrà le sue preferenze e quant'altro però ragazzi come forma tutto quanto ragazzi questi caschi qui non li batte nessuno in più quando prendete un casco di questi, questo ve lo dico ragazzi avete qui davanti per il fango più lungo poi avete tutto quanto da cambiare qua dietro la reazione avete già un pezzo per la GoPro per poterla attaccare qua sopra al casco così non diventate matti con altri attacchi e quant'altro cioè è veramente raga ma siamo matti questo qui è il mio casco del 2017 questo video è un po' in ritardo lo ammetto ragazzi perché ce l'ho già da un po' di tempo però aspettavo la giornata giusta il momento giusto e volevo farvi un video sulla neve ma come vedete qua la neve non c'è assolutamente poi c'è freddissimo oggi c'è abbastanza caldo forse saremo a 2-3 gradi non lo so ma c'è abbastanza caldo poi sinceramente mi ero anche un po' dimenticato perché pensavo allo snowboard andare in montagna vari progetti però oggi ragazzi era la giornata perfetta non c'è assolutamente nessuno e quindi anche questa cosa qui ragazzi è stata fatta guardate che casco meraviglioso ragazzi ditemi sotto giù nei commenti cosa ne pensate ma è veramente un capolavoro quindi io volevo ringraziare tantissimo l'Aero per questa opportunità che mi ha dato di poter poi ragazzi andare a fare i vlog con il loro casco e quindi magari adesso vi metterò a fine video un paio di immagini fatte veramente molto molto bene del casco in tutti i suoi dettagli io vi saluto e vi ringrazio da questo paesaggio mozzafiato che se mi metto così divento un po' troppo scuro quindi vi parlo in questa maniera io ragazzi vi saluto vi ringrazio un milione è il prossimo traguardo e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao